Let's go bitch, se avete chiesto un gameplay di Black Ops 2, bene, ne ho fatto proprio uno proprio per questo video Continuiamo quella che è la storia di Power su Black Ops 2 Allora, il team che faceva parte dei PMP ed era composto da me, Colga, Gian e Pibo andò anche su Black Ops 2 Ma Gian ci abbandonò durante la CPC e abbiamo dovuto prendere Doll che tornò a giocare proprio per l'occasione Ma non riusciamo a fare nessuna LAN o evento del genere E diciamo, c'è una sorta di stop, di pausa da quelli che sono i tornei e le LAN, a parte la CPC che stavamo continuando a fare In questo caso, Leonardo, verso dicembre, no, verso, sì, l'inizio del nuovo anno, del 2013 Va via, parte per Londra per cercare di lavorare, quindi di smette di giocare E noi siamo costretti a prendere un altro giocatore, che è Gaemon Ma si scopre che dopo una settimana lui è già di ritorno per l'Italia E dobbiamo, quindi pensavamo che lui sarebbe ritornato a giocare con noi Lo stesso Pibo era convinto di questa cosa Quindi, alla fine, decidiamo di... non è che decidiamo Leonardo rifiuta di stare con noi e va a giocare in team con Donny Tra l'altro, poco prima di questa cosa, poco prima che lui tornasse Donny aveva chiesto a me di andare con loro, di giocare con loro alla Reflex Lo stesso Luca mi aveva detto, no, ma Donny è cambiato, così e tutto il resto Io provai a giocare uno o due partite ma rifiutai Avevano chiesto dall'altro pure a Doll di ritornare a giocare con loro Che, come aveva visto il mio rifiuto, decise di seguirmi E quindi il team dei PMP fu composto da me, Pibo, Gaemon, quindi sempre Gaemon che giocava, e Doll Alla fine questo team non era più nei PMP ma diventò GSN Che era una sorta di organizzazione che era dietro a quelli che erano gli ARMA Un'altra organizzazione italiana Che era composta principalmente da quelle che erano entrate di YouTube Comunque, il team, quindi l'altro team, diciamo il secondo team italiano, si può definire così Opposto al nostro, era quello dei Rapid, che era composto proprio da Colga, Donny, Ghost e Lukeman In questo periodo escono quelle che sono le qualificazioni al Code World Championship Qualificazioni online disposte in 5k Noi partecipiamo e giochiamo dall'alto molto bene Ma succedono dei casini, Pibo non è il tempo di giocare e non può andare nemmeno alla LAN Quindi Pibo esce dal team e siamo costretti a prendere un altro player In questo caso la scelta va su un player estero, in questo caso su Sowards Per chi lo conosce è il giocatore, ex giocatore dei Profesi, poi degli Epsilon in futuro e così via Quindi è un nome che magari già conoscete e che avete già sentito Andando avanti con le qualifiche rimaniamo sempre il primo team qualificato in Italia E tra l'altro la top 8 sui 16 team che andranno europei a Colonia a giocare le qualificazioni Arriviamo all'ultima cup e usciamo, mi sembra, contro gli Epsilon Che tra l'altro una volta eravamo riusciti a battere e ad accedere alla semifinale Ma questa volta non siamo così fortunati In finale però arrivano quelli che sono i Rapid Che riescono arrivando in finale a qualificarsi e a sorpassare gli Arma Che erano il secondo team rancato in Italia Succedono dei casini subito dopo queste qualificazioni Perché viene messa in giro la voce, anche dagli stessi staffer di ESL Che il team dei Rapid aveva usato un giocatore estero sotto falso nome Cosa che non si poteva fare E quindi successe un casino assurdo e rischiarono di non andare a Colonia Ma alla fine ci andarono ugualmente Ma è successo un altro problema Doll si tirò indietro da quello che era il team dei BMP Il team in cui ero io il GSN E finimmo per dover prendere un altro giocatore In questo caso io decisi di prendere Frido Con cui tra l'altro avevo pure litigato durante il periodo di... Diciamo di... come si chiama? Durante il periodo di Black Ops 2 avevamo litigato E quindi non ci parlavo da tempo E decisi di prendere lui Frido venne a giocare e ci troviamo molto bene tra l'altro a giocare assieme Perché io cambiai ruolo, diventai l'ancora del team Passai da SMG ad ancora del team E lui divenne lo Slayer In questo caso all'interno del team il clima era ottimo Ci allenavamo, cercavamo di capire dove sbagliavamo e il perché Quindi eravamo molto confident di quello che potevamo fare Allo stesso modo il torneo della CPC non si giocava quindi era in pausa E finimmo per perdere quella che era la finale E andare in loser bracket La perdiamo perché capitò che Abbiamo aspettato il team dei... Ah, questa è una cosa che non vi ho detto Quindi piccolo torniamo indietro Alla finale della CPC Di decerto Ci troviamo a scontrarci contro i Rapid Che ci batterono sonoramente Peebo e Doll giocarono malissimo E Leonardo fu incazzadissimo per questo Quindi penso che anche una motivazione del suo... Del perché lui non ritornò a giocare con noi È perché aveva visto Peebo e Doll Cosa avevano fatto, di cosa erano capaci Ed era molto scontento Non aveva molta fiducia in loro E quindi andò nei Rapid anche per questo Quando tornò dall'Inghilterra Stessa cosa quando abbiamo dovuto giocare la finale Proprio la grand final Noi dalla loser bracket Loro dalla winner E ci siamo trovati in finale Loro non avevano Colga Avevano un altro giocatore Non mi ricordo Mi sembra Andex o Mauri Ma riuscimmo a batterli E a vincere quella che era la CPC in quel caso Una partita che nessuno si aspettava Veramente fuori di testa I gameplay che sono stati fatti Comunque Andando sempre avanti Ritornando quindi al Code War Championship Andiamo tutti a Colonia Sia il team Rapid Che il team GSN E in questo caso Ci dobbiamo scontrare A quello che è la prima giornata E anche la prima partita La prima partita È una postazione su Ride Dove io penso che Gran parte della vittoria È merito della prestazione assurda Che ho fatto io Con 45 kill Due terribili dare all'altro All'arpo in finale Perché tutto si decideva All'arpo in finale Perché due nostri giocatori Giocarono molto male E sono Gaemon E Sowers Ma veramente Veramente male Alla fine Cosa posso dire Non so per quale motivo Giocarono così male Io posso capire che era la prima land Ma Gaemon da casa Giocava proprio in un modo Differente rispetto a come Giocava in land Stessa cosa Sowers Non so bene il perché Giocava così male Forse era stato sopravvalutato Non ho la più paliera idea Fridio invece Giocava molto bene E si dimostrò Veramente un giocatore forte Anzi Abbiamo giocato Veramente di squadra Io e lui Riuscendo a tenere Degli hard point Solamente in due Comunque Non è Non è solo la prima mappa La prima mappa Finisce con una vittoria nostra E Quindi Andiamo con il lead Di 1 a 0 A giocare il cerch e distruggi Il cerch e distruggi Perdiamo 6 a 3 O 6 a 2 Non ricordo Bisogna dire che In questo caso Swanee fa una prestazione Allucinante Ma veramente allucinante Che consente quindi Diciamo Una carica Veramente impressionante A quello che era il team Rapid Poiché Praticamente da solo Fece una cosa come Più di 13 kill Mi sembra Una cosa assurda Non so perché Ma succedevano Dei fail continui Sulla bomba Quella interna Alla discoteca E non si riuscivano A fermare Non so cosa combinavano Dato che quelli addetti Proprio ad entrare per primi Erano Gaemon e Sowers Forse quella è stata Una scelta sbagliata Di tattica Comunque Andiamo a quella Che era l'ultima mappa Ed era CTF CTF ormai Il morale forse Si era un po' abbassato In Gaemon e Sowers Che hanno già giocato Due mappe Male Allora Il CTF È un po' Senso unico I primi 5 minuti Magari sono stati Un po' più tirati Ma dopo Gli ultimi 5 minuti Sono andati abbastanza Allo scatafascio Fin da 3 a 1 Mi sembra O 4 a 1 Per i Rapid Che tra l'altro Vanno a Vanno a Los Angeles In questo caso Io non Ero un po' amareggiato Dalla sconfitta Specialmente per quanto Mi ero preparato Per quanto avevo giocato Per tutto quello Che ci avevo messo E specialmente Sapevo che i GSN Non avrebbero più supportato Il mio team In fatto di soldi Poiché Questa sarebbe stata La dimostrazione Che se avessimo vinto Avrebbero investito soldi Nel team Per andare a fare le LAN Non essendoci quindi Possibilità di fare LAN Io decisi di prendermi Una pausa E quindi di concentrarmi Solo su fare video Su YouTube Cose del genere Molti di quelli Che erano i miei compagni Team Sowers tra l'altro Se ne andò Non erano Diciamo Non erano molto contenti Di questa cosa Sia Gaemon Che Frito Però io glielo dissi Praticamente Che non avrei continuato A giocare Proprio per Il problema Che non avremmo potuto Fare LAN Quindi sarebbe stato inutile Tutto quello Che avessimo fatto Allora io continuai Mi presi una pausa E veni contattato Poi dagli stessi Rapid Che erano diventati Inferno e Sport Poco prima che Andassero a Los Angeles Chiedendomi Se avrei voluto Giocare con loro E se mi avessero fatto Un contratto Cosa avrei deciso di fare All'inizio ero titubbante Già una volta Avevo rifiutato Di Diciamo Di giocare con Donnie Perché non Mi trovo bene Con una persona Che cerca di essere Narcisista All'interno del team Di elevarsi sopra gli altri E quindi Non sapevo se accettare Accettai alla fine Perché Quando ci siamo rivisti Non Non successe niente di male Forse perché Donnie aveva vinto Si comportò in modo migliore Verso di me Però non Non so dirlo Allora Iniziai a giocare con loro Però il mio ruolo Diventò quello di fare Lo Slayer Non più l'ancora Quindi dovetti cambiare Per la terza volta In Black Ops 2 E ciò che facevo Ero felice Ero felice ugualmente Anche di cambiare ruolo Perché L'importante Era vincere Anche se non facevo Quello che mi piaceva Quindi Alla fine Mi trovavo bene All'interno del team All'inizio Però piano piano Andando avanti Col tempo La situazione Sembrava tornare A quelli che erano i tempi Di Mv3 Vi dirò poi Tutte le LAN Che abbiamo fatto Perché abbiamo fatto Tantissime LAN Come La GFINIT2 La RGT8 Veramente abbiamo fatto Tantissime LAN Quindi Non ve le voglio Spiegare ora Vi spiegherò nel prossimo video Tutte le LAN Spero vi sia piaciuto questo video Ci sentiamo al prossimo video Sulla storia di Power Let's go bitches Ma quante volte ho detto video